Tutta un'altra storia rispetto a un anno fa quando il Gravina rischiò seriamente di non iscriversi al campionato di Serie D 12 mesi dopo infatti i Murgiani non nascondono le proprie importanti ambizioni Quest'anno è intenzione di tutta la società di puntare in alto di puntare assolutissimamente a fare un bellissimo campionato e quindi di giocarci assolutissimamente la zona playoff anche perché le condizioni non solo della società ma anche della comunità unitamente all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale secondo me sono favorevoli per tentare questo salto di categoria Non ci sono ufficialità al momento ma esistono già delle certezze il Gravina ripartirà da Antonio Somma e Felice Ragone in panchina e da Pietro Chiaradia come uomo a mercato Non possiamo che ripartire da loro anche perché hanno fatto troppo bene devo dire con grande onestà che è prevalsa la professionalità quest'anno un bel campionato con grandi risultati e sottolineo con il minimo sforzo quindi non possiamo che ripartire da loro anche se non è stato ancora affermato niente però è intenzione della società di ripartire assolutissimamente dal trio che hai appena annunciato Facile immaginare inoltre che il Gravina proverà a confermare in organico capitano Giuseppe Chiaradia icona del calcio cittadino l'attaccante Mudu Diop abbondantemente in doppia cifra dell'ultima stagione e poi i centrocampisti argentini Rodrigo Tuninetti e Santiago Ciacon Dobbiamo fare di tutto per ripartire da loro Dico dobbiamo fare di tutto perché perché da voci indiscrete, voci di corridoio sappiamo che alcuni di questi sono molto corteggiati da altre società quindi stiamo facendo di tutto per trattenere quindi tutti coloro i quali quindi sono stati i protagonisti onestamente i protagonisti e l'intera squadra però quelli che hai appena annunciato quindi hanno fatto un bellissimo insomma annata calcistica C'è grande entusiasmo a Gravina grazie all'ottimo campionato disputato nell'ultima stagione ed è un entusiasmo che l'attuale dirigenza proverà a coltivare Quasi un anno fa la società stava quindi per lasciare il titolo lo sappiamo tutti poi spinti da un senso di responsabilità perché ci sembrava di gettare alle ortiche tutto il lavoro fatto da coloro i quali ci hanno preceduto compreso anche noi che abbiamo come dire meritato 4 anni nella Serie D quindi c'è tanto entusiasmo la settimana prossima partirà la campagna abbonamenti mi associo a coloro i quali ci saranno accanto ci saranno vicini un invito a tutti coloro i quali quindi ci saranno accanto a questo bel cammino che la società vuole portare a termine grazie all'ottima stagione grazie all'ottima stagione grazie all'ottima stagione